E' entrando visto che stava zoppicando, cos'è successo? Mi seguendo una livella ben ombra, un giorno che ero rotto per passare. Quando già credevo ad esserci riuscito, c'era anche l'epoca. Ma la cosa peggiore è stata quella volta che mi sono fatto questa domanda. Se è pericoloso, guidare a fare sprint. Se poi non è così difficile morire. Non è poi così. Signori e signore, l'avete riconosciuto il maestro Cristian Catenato. Il maestro Cristian Catenato è un musicista di fama internazionale. Ho collaborato con tutti i più grandi. Ve ne dico uno che è il mio preferito in assurdo. Avete presente Tiziano Ferro? Beh, dietro Tiziano Ferro c'è il maestro Cristian Catenato. Di fianco. Comunque non è in assa, grazie. Musica continua l'evoluzione. Musica che si evolve, che si atta al nome. Ci faccio sentire. Bravo, meglio. Maestro, ci ricapiamo bene. Maestro, questo è yesterday però. Yesterday ho scritto a today, ce la sto facendo. Musica che sia buona, che sia regata. Musica che sia buona, rubanerci Grazie a tutti